L'emergenza coronavirus condiziona ma non ferma la 71esima edizione della fiera del peperone di Carmagnola. La sindaca Ivana Gaveglio e l'assessore all'agricoltura al commercio Gianluigi Surra presentano l'edizione 2020 diffusa e social in programma il 30 agosto e dal 6 al 9 settembre 2020. Non potevamo non fare la fiera del peperone perché parte integrante della città. Abbiamo studiato a lungo come poterla realizzare per rispettare le norme del distanziamento sociale e facciamo un'edizione diffusa. Sarà un'edizione che avrà una parte digitale nella chiesa di San Filippo dove verranno tutte le sere organizzati degli incontri a tema, delle interviste con persone importanti e poi ci sarà la parte commerciale che si snoderà lungo l'asse della principale via cittadina. Quindi ci sarà un anello che ricorderà molto quelle che sono le forme del mercato perché il mercato è una tradizione importante per la città. Nelle sali del castello verrà organizzata la mostra per i 30 anni della nostra maschera Re Peperone e sarà un modo per ripercorrere la storia di 30 anni della città. La parte enogastronomica e la parte dedicata agli eventi, la parte dedicata ai più piccoli quindi alle famiglie e ai bambini verranno dislocate in diversi punti della città in modo da mantenere, rispettare il distanziamento. Fiera del peperone che quest'anno sarà limitata sia come durata non più i 10 giorni ma solo 5 giorni sia come dimensionamento degli stand e le aree espositive che saranno in numero decisamente minore rispetto agli anni scorsi, ripeto proprio in seguito alle direttive stabilite per il Covid-19. Domenica 30 agosto al mattino ci sarà il concorso del peperone, si svolgerà in piazza Sant'Agostino, verranno valutate e successivamente premiate le bacche più pesanti, i gruppi più pesanti delle cinque varietà tipiche del territorio calbagnolese. La premiazione avverrà al pomeriggio alle ore 15 sempre presso la chiesa San Filippo, mentre invece durante tutto il giorno verrà allestito lungo le vie della città il mercato, la mostra mercato del peperone e degli altri prodotti tipici del calbagnolese. Saranno presenti i produttori del consorzio del peperone, saranno presenti i produttori di Campania Amica e altri produttori che metteranno appunto in vendita e in degustazione le loro specialità tipiche. La 71esima Fiera Nazionale del Peperone quest'anno sarà limitata come partecipazione nei giorni, non saranno i consueti dieci giorni ma saranno soltanto due appuntamenti, uno nel mese di agosto appunto nella giornata di venerdì 28 e domenica 30 e il secondo appuntamento nel mese settembre da giovedì 3 a domenica 6. Ricordiamo a tutti che per accedere alla fiera quest'anno è fondamentale rispettare le tre regole anti-covid, quindi la presenza con la mascherina, il distanziamento e la sanificazione.